vendesi quando si alza il sole uscire a piedi camminare nella rugiada lungo i campi in riva al mare calmo che felicità vi scende nell'anima dagli occhi insieme alla luce dalle narici con l'aria leggera dalla pelle coi dolci soffi del vento per quale motivo rimane in noi tanto luminoso e caro e forte il ricordo di alcuni attimi d'amore verso la terra il ricordo di una sensazione deliziosa e fuggevole come quello di un paesaggio incontrato a una svolta all'apertura ad una valle sulla sponda ad un fiume un ricordo simile all'incontro con una bella fanciulla generosa di sé tra gli altri me ne torna alla memoria uno in modo particolare stavo camminando lungo l'oceano in bretagna verso il capo finistere camminavo senza pensare a niente con passo rapido lungo il mare ero nei pressi di kim pearl nella parte più dolce e bella della bretagna un mattino di primavera uno di quei mattini che ci ringiovaniscono di venti anni e rimettono le speranze nel nostro cuore dandoci sogni da adolescenti camminavo su un sentiero appena marcato tra il mare e i campi di grano le spighe rimanevano immobili e il mare si muoveva appena sentivo l'odore grato del frumento maturo l'odore marino delle alghe camminavo spensieratamente dritto davanti a me continuando un viaggio iniziato quindici giorni prima un giro lungo le coste bretoni mi sentivo forte agile felice di buon umore camminavo non pensavo a niente perché pensare in quelle ore di gioia incosciente profonda sensuale la gioia di un animale che corre nel prato o vola nel cielo limpido sotto il sole sentivo in lontananza un canto religioso forse una processione poiché era domenica ma appena fuori da un piccolo promontorio restai attonito immobile l'improvviso mapparvero cinque grandi pescherecci pieni di gente uomini tonne e bambini che erano diretti alla sagra di pluneben procedevano con lentezza costeggiando spinte appena da un penticello lieve come un respiro che gonfiava appena le vele scure e poi subito stanco le lasciava ricadere molli lungo gli alberi le barche scivolavano pian piano sull'acqua pesanti e cariche di persone e cantavano tutti gli uomini in piedi con i larghi cappelli in testa lanciavano note possenti le donne cantavano quelle più acute e le esili voci infantili sbucavano come suoni di piffero stonato da quel clamore violento e pio i passeggeri dei cinque barconi innalzavano lo stesso canto il cui ritmo monotono saliva nel cielo calmo tutti e cinque procedevano uno dietro l'altro molto vicini tra loro mi passarono davanti a breve distanza e rividi allontanarsi mentre sentivo che quel canto s'andava spegnendo mi misi a fantasticare deliziose storie come fanno i ragazzi in modo incantevole e assurdo come va via rapidamente quell'età di sogno il solo periodo felice della vita allora non eravamo mai solitari né tristi tetri o sconfortati perché avevamo in noi la divina facoltà di smarrirci nelle speranze appena rimasti soli il paese di fate è quello in cui può accadere tutto nel pensiero che vola nei sogni quanto è bella l'esistenza nel polverio dorato dei sogni quell'età finisce presto cominciai a sognare cosa tutto quel che attendiamo continuamente e continuamente desideriamo la ricchezza la gloria l'amore camminavo di buon passo accarezzando con la mano il capoviondo delle spighe che si curvavano sotto la mia mano facendo il solletico al palmo proprio come se avesse sfiorato una capigliatura femminile girato intorno a un piccolo promontorio scorso in fondo a una spiaggia breve e tondeggiante una casa bianca costruita su tre piani che degradavano fino alla ghiaia della riva perché il cuore sobbalzò di gioia solo vedendola chi lo sa quando si viaggia in questo modo si trovano angoletti che ci sembra di conoscere da tanto tempo perché ci sono familiari e toccano il nostro cuore possibile che non l'avessi mai veduto in precedenza possibile che non ci abbia vissuto una volta tutto ci incanta ci colma di seduzioni la linea dolce dell'orizzonte il modo in cui sono disposti gli alberi il colore della sabbia oh che casa graziosa eretta su quegli ampi gradoni lungo i ripiani che scendono verso l'acqua come giganteschi scalini crescevano alberi da frutto e ogni scalino portava sulla cima come una corona d'oro un ciuffo slanciato di fiorite ginestre mi fermai ammirando quella casa mi sarebbe piaciuto possederla e viverci per sempre col cuore che mi batteva di desiderio mi avvicinai alla porta e sullo stipite vidi un largo cartello vendesi ne fui contento e sussultai come se l'avessero offerta a me come se me l'avessero regalata perché eh già perché non lo so proprio vendesi e allora se non apparteneva più a qualcuno avrebbe potuto essere di chiunque essere mia mia perché questa gioia questa vera allegria che non aveva spiegazioni sapevo che non l'avrei comprata come avrei fatto a pagarla non importa era in vendita l'uccello in gabbia è del padrone quello nell'aria è mio perché non è di nessuno entrai nel giardino un giardino incantevole su piani sfalsati ciuffi di ginestre giallo dorate e due annosi fichi in cima alle varie terrazze quando arrivai alla più alta guardai l'orizzonte ai miei piedi una spiaggetta ovale di sabbia separata dal mare aperto da tre scogli massicci e scuri che ne sbarravano l'ingresso e dove sicuramente si frangevano i cavalloni nelle giornate di burrasca sulla punta di fronte c'erano due pietre enormi una in piedi l'altra adagiata sull'erba un menhir e un dolmen simili a due sposi immobilizzati da qualche malefizio pareva guardassero sempre la casetta che certo avevano veduto costruire loro che da secoli erano in quella baia una volta solitaria loro che avrebbero visto crollare sbriciolarsi dissolversi nell'aria e scomparire quella piccola casetta in vendita suonai alla porta come se avessi suonato a una casa mia mi venne ad aprire una serva una vecchietta vestita di nero con cuffia bianca che pareva una beghina era come se conoscessi anche lei le chiesi siete breton e voi rispose no sono nata in lorena e aggiunse siete venuto a vedere la casa eh sì certo ed entrai mi sembrava di riconoscere ogni cosa pareti mobili ero quasi stupito di non vedere i miei bastoni nell'ingresso penetrai nel salotto grazioso tapezzato di stoffe rustiche guardava il mare attraverso tre grandi finestre sul caminetto vagi cinesi e una grande fotografia di donna andai subito ad osservarla sicuro di riconoscere anche lei e di fatti la riconobbi anche se ero sicuro di non averla mai incontrata era lei era proprio lei quella che aspettavo che desideravo che invocavo e il lei quella che continuiamo a cercare sempre dovunque quella che tra un attimo vedremo per strada che incontreremo su una via maestra di campagna scorgendo un ombrellino rosso che spicca tra le spighe era lei quella che di certo è già arrivata all'albergo dove sostiamo in un viaggio quella che si trova in uno scompartimento in cui si deve salire quella che è nel salotto di cui abbiamo spalancato la porta senza dubbio era lei la riconobbi dagli occhi che mi fissavano dai capelli a boccoli dalla bocca soprattutto da quel sorriso che avevo immaginato già da tanto tempo chiesi subito chi è questa donna la vecchietta simile a una beghina rispose seccamente è la signora mi si stetti la vostra padrona a no no signore e allora di chi è la casa del mio padrone il signor tournel indicai la fotografia ma chi è quella donna è la signora la moglie del padrone o no signore la sua amante allora la signora non rispose afferrato da una vaga gelosia e da una confusa rabbietta contro l'uomo che aveva trovato una donna simile ripresi dove sono adesso la domestica disse a bassa voce il padrone a parigi dove sia la signora non lo so tra salì allora non stanno più insieme no signore feci il furbo e insinuai con aria molto seria ditemi che cosa è accaduto forse potrò essere molto utile al vostro padrone conosco quella donna è una perfida creatura la vecchia mi guardò e considerata l'aria aperta e franca che avevo ebbe fiducia signore quella la reso molto infelice il mio padrone la conosciuta in italia e se le portata dietro come se fosse stata sua moglie cantava benissimo e lui adorava signore le voleva talmente bene che faceva pena a vederlo l'anno scorso sono arrivati qui in viaggio hanno visto la casa che era stata fabbricata da un pazzo e sì perché solo a un pazzo poteva venire l'idea di abitare a due leghe dal paese la signora ha voluto che lui la complasse subito per viverci insieme al padrone e lui per farle piacere l'ha acquistata ci sono rimasti tutta l'estate e quasi tutto l'inverno signore e poi ecco che una mattina all'ora di colazione il padrone mi chiama cesarin non è tornata la signora no signore e così aspettiamo tutta la giornata il padrone pareva pazzo furioso abbiamo cercato dappertutto senza riuscire a trovarla era scappata capite e non si è mai saputo né dove né come che gioia mi invase avevo una voglia matta ad abbracciare quella beghina di stringerla alla vita e farla ballare nel salotto dunque se n'era andata era fuggita lo aveva piantato in asso stanca di lui disgustata la vecchia continuò il padrone è quasi morto di crepacuore è tornato a parigi e ha lasciato qui me e mio marito per vendere la casa e chiedeva 20.000 franchi ma già non l'ascoltavo più pensavo a lei io mi sembrò l'improvviso che sarebbe stato sufficiente andare via di lì per ritrovarla certo sarebbe tornata qui a primavera per rivedere la casa la sua bella casa che senza quell'altro avrebbe tanto amata misi dieci franchi sulle mani della vecchia afferrai la fotografia e fuggì di corsa baciando perdutamente quel volto impresso sul cartoncino raggiunsi la strada e ripresi a camminare guardandola che felicità era libera era fuggita via l'avrei sicuramente incontrata oggi o domani questa settimana o quella seguente se lei lo aveva lasciato e lo aveva lasciato perché adesso toccava a me in qualche parte del mondo lei era libera ormai la conoscevo e dovevo solamente ritrovarla continuavo a carezzare la testa delle spighe mature che si curvavano al vento bevevo l'aria di mare che mi apriva il petto sentivo il bacio del sole sulla faccia andavo andavo avanti pazzo di gioia inebriato di speranza andavo avanti sicuro che l'avrei incontrata e l'avrei ricondotta a me in quella bella sua casa su cui era scritto vendersi come ci sarebbe stata bene questa volta